Il lavoro del nostro laboratorio è concentrato sul riposizionamento dei farmaci. Riposizionamento dei farmaci significa utilizzare vecchi farmaci già in uso clinico da molti anni, di cui quindi si conoscono bene gli effetti collaterali, e che possono essere utilizzati insieme all'attuale prima linea di chemioterapia sui pazienti. In particolare noi ci occupiamo di glioblastoma e abbiamo trovato questo farmaco chiamato clorpromazina, che è un antipsicotico utilizzato da 60 anni in clinica, e studiando i suoi effetti abbiamo visto che effettivamente riduce tantissimo la proliferazione tumorale, riduce la sua capacità di clonogenicità e quindi ha moltissimi e molteplici effetti benefici sul glioblastoma. Siamo riusciti ad attivare uno studio, un multicentrico, un clinical trial su pazienti affetti da glioblastoma in collaborazione con altri due istituti oncologici, uno è il BESTA di Milano e l'altro è l'Istituto Oncologico di Padova. Attualmente l'arrollamento dei pazienti è in corso e quindi speriamo possa portare a dei buonissimi risultati.